Dalla baia del silenzio di Sestri Levante con uno dei protagonisti del concorso, dei lungometraggi, Nakash Khalid. Il suo film si intitola In Camera e già questo ci fa capire che in qualche modo è un film legato al cinema. Non è così? Quindi sei qui in Sestri Levante con il tuo film In Camera, già il titolo dice che il film è sul cinema e l'attività, è vero? Sì, è ispirato appunto alla sua ispirazione che ha avuto perché lui stesso voleva diventare un attore e quindi essere un attore, raccontare che cosa significa essere un attore è proprio il punto centrale di questo film. Brevmente, qual è la trama di questo film? Can you tell us in a few words which is the story of the film? Yeah, the film follows a young actor who's kind of navigating a nightmarish version of the film industry and he's going up for lots of parts, auditioning and he's not doing very well and he comes up with kind of a new way to go about his job which takes us into kind of a weird, absurd territory. Parla di un attore che sta cercando appunto di fare carriera in questo settore, fa diverse audizioni, diversi casting per i ruoli più diversi e tutta questa avventura lo porta alla fine a scoprire una dimensione anche più assurda e più surreale del suo lavoro e a concentrarsi su quella. Ci sono tanti temi in questo film, a cominciare dal tema dell'identità e anche un po' il tema dell'autostima? There are a lot of themes in this movie, the identity but also self-esteem maybe? Yeah, I really wanted to create something that felt like a generational portrait. I was looking at a lot of the films of the 50s, 60s, like post-war british films and I was really interested in this kind of construction of the angry young man and then thinking about culture today, I was thinking about that as a character in construction and how that's kind of dissolved into like the anxious young man. So I really wanted to have a look at like modern masculinity and kind of the anxiety around that. Sì, assolutamente, è un ritratto della generazione attuale e anche ispirata dai film degli anni 50, 60 girati dopo la guerra in Inghilterra, in Gran Bretagna proprio perché comunque le sensazioni che accomunano i giovani sono sempre le stesse in diverse generazioni. Ci sono stati molti film dove si parla di questi giovani uomini arrabbiati che cercano di trovare la loro identità e questo è stato anche un'ispirazione per il suo personaggio attuale, un uomo appunto che cerca di trovare la sua identità e un'analisi anche della mascolinità e di cosa significhi essere un attore, un uomo in questi giorni. Dunque è anche un film diciamo sul disagio di una generazione intera e sulla necessità e la volontà di trovare un posto in questo mondo? So can we also see it as the portrait of a generation which is experiencing difficulties and doesn't really find its place in the world? Yeah, I think right now it's a really difficult time to be a young person. The world is very uncertain and I'm really interested in the kind of performance of everyday life and I think today's generation is the most performative generation. We have all of these layers of our identity, whether they are in real life or performed on social media and I think there's a fracture there that is like narratively quite interesting. But yeah, I really wanted to like examine a really specific part of, I guess, youth culture and being a young man today. Sì, assolutamente, questa poi è una generazione che sta crescendo in un mondo molto incerto quindi abbiamo proprio esperienza di questi temi. È anche una generazione che è molto espressiva perché esprimiamo noi stessi nella vita di tutti i giorni, nei social media, quindi mostriamo anche diverse parti di noi stessi. Questi sono periodi molto insicuri e quindi è proprio questo che lo porta a descrivere una generazione che sta avendo esperienza esattamente di questi temi. Adesso volevo chiedere invece qualcosa sulla sua esperienza qui a Sestri Levante, come è stata? And how is your experience in Sestri Levante so far? Oh, it's beautiful. I mean, look at where we are. This town is... the food is great, the people have been really friendly and welcoming and I'm really having a great time here, so it's a real privilege to make a film and then to show it to audiences around the world and it's a privilege to be at this festival too. Beh, guardate dove siamo, posso solamente dire che siamo in una location meravigliosa. Il cibo è fantastico, le persone sono state molto accoglienti ad E.M.K. e quello è per lui un onore, un privilegio essere qui, portare il suo film intorno al mondo in festival come questi per il diverso pubblico. Ecco, cosa si aspetta da questo film? Si aspetta qualcosa in particolare? Do you expect something in particular from this movie? One particular feedback from the audience as well? It's a strange film and you know, one thing I'm really interested in in cinema as just a spectator is films that allow you to think and to allow you to have your own interpretation and as a director I'm more interested in questions and posing questions and creating room for people to allow themselves, to project themselves within the film so I'm very open and very curious about what people will think but I think everyone should come away with something different and I think those are the kind of points I want to make. E' un film che lascia aperte diverse interpretazioni e è un film in cui lui è curioso di vedere le reazioni del pubblico che cosa chiederanno, le interpretazioni che daranno al film stesso lui stesso quando va al cinema la vede come un'occasione essendo lui stesso un regista per fare delle domande per capire meglio il film ed essendo un film un po' astratto si aspetta assolutamente una reazione di questo tipo dal pubblico. Bene, allora noi ringraziamo Nakash Khalid, thank you very much ringraziamo Valentina che ci ha aiutato in questa intervista e per il momento da Sesti Levante.